Musica Ben trovati i tre spettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 22 febbraio. L'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che su gran parte del territorio avremo condizioni di tempo stabile. Tuttavia al nord avremo la presenza di qualche nube mentre al centro-sud avremo tempo più stabile e soleggiato. La ventilazione media risulterà debole e variabile e i mari risulteranno principalmente calmi o poco mossi. Mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature risulteranno in aumento su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Tuttavia nel corso del pomeriggio e della sera potremo assistere a passaggi di nuvolosità alta e stratificata che non arrecheranno fenomeni di instabilità. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti